Per favore, non mettetevi in fondo alla storia, siate protagonisti, andate, guardate avanti, costruite un mondo migliore, un mondo di fratelli, di giustizia, di amore, di pace, di fratellanza, di solidarietà. Guardate avanti, andate avanti, sempre. San Pietro ci dice che siamo pietre vive che formano un edificio spirituale, e guardando questo palco si vede che esso ha la forma di una chiesa costruita con pietre e con mattoni. Nella chiesa di Gesù le pietre vive siamo noi, e Gesù ci chiede di costruire la sua chiesa. Ognuno di noi è una pietra viva, è il pezzettino della costruzione, dell'edificazione. Se manca questo pezzettino, quando arriva la pioggia entra acqua in casa. Ogni pezzettino vivo deve badare all'unità e alla sicurezza della chiesa, e non costruire una piccola cappella, dove può entrare solo un gruppetto di persone. Gesù chiede che la sua chiesa sia così grande che possa accogliere l'intera umanità, che sia la casa di tutti. Gesù dice a me, a voi, a ognuno di noi, dice andate e fate discepoli, tutti i popoli. Questa sera rispondiamogli, sì, sì signore, anch'io voglio essere una pietra viva. Insieme vogliamo edificare la chiesa di Gesù. Voglio andare ed essere costruttore della chiesa di Cristo. Volete ripeterlo? Voglio andare ed essere costruttore della chiesa di Cristo. Ecco, adesso siete riusciti a dirlo tutti insieme. Il tuo cuore, il tuo cuore giovane, vuole costruire un mondo migliore. Seguo le notizie del mondo e vedo che tanti giovani, tante parti del mondo, sono usciti in strada per esprimere il desiderio di una civiltà più giusta e fraterna. I giovani in strada. Sono giovani che vogliono essere protagonista del cambiamento. Per favore, non consentite che altri siano i protagonisti del cambio. Siete voi che dovete esserlo, voi avete il futuro. Da voi entra il futuro nel mondo. A voi chiedo che siate anche protagonisti di questo cambiamento, sia superando l'apatia e offrendo una risposta cristiana alle inquietudini sociali e politiche che nascono in diverse parti del mondo. Vi chiedo di essere costruttori del futuro, che cominciate a lavorare per un mondo migliore. Cari giovani, per favore, non dimenticatevi, non lasciate da parte la vita, non state al balcone. Gesù non si è messo al balcone a guardare la vita, si è messo nella vita. Fatelo anche voi, come ha fatto Gesù. Tuttavia, rimane una domanda. Da dove iniziamo? A chi chiediamo che iniziamo di iniziare? A chi chiediamo di iniziare? Una volta hanno chiesto a Madre Teresa. Che cosa doveva cambiare nella Chiesa per cominciare? Da che parte della Chiesa? Da dove cominciamo, Madre? Da te e da me, ha risposto lei. Era forte questa donna, sapeva dove iniziare. Anche io vi chiedo, gli rubo le parole a Madre Teresa e vi dico, iniziamo. Da dove? Da voi e da me. Ognuno in silenzio, questa volta. Chieda a se stesso se devo iniziare da me. Da dove inizio? Ognuno apre il suo cuore, affinché Gesù li dica da dove iniziare. Cari amici,